L'augurio che faccio all'ambiente è di trovare per Palermo e per la Sicilia degli investitori che portino la squadra ad un certo traguardo. Parola di Maurizio Zamparini, che è tornato a parlare a ridosso del match dei rosa-nero contro il Torino, il numero 1 friulano, rassicura sugli sviluppi della trattativa per la cessione della società alla cordata cinese. La trattativa è cominciata 3-4 mesi fa e va in parallelo con altre trattative. I cinesi hanno bisogno di più tempo per decidere, le loro disponibilità sono alte e vogliono investire nel calcio. Le probabilità che oggi arrivino a Palermo sono dell'80-90%. Intanto la lunga attesa per Palermo-Torino è quasi finita. I rosa-nero scenderanno in campo stasera nel posticipo dell'ottava di Serie A festeggiando le mille gare nella massima categoria. Un'occasione da non perdere per Diamanti e compagni che vogliono cancellare lo zero dalla voce Vittoria in Casa. Stesso obiettivo ma a parti invertite per i Granata che cercano il primo acuto esterno della stagione. De Zerbi opterà per un 3-4-2-1 con Posavec difeso da Cionec, Goldenic e González a centrocampo giostreranno Giagiole, Bruneriche con Rispoli e Alesami agli esterni. In attacco Nestorowski supportato da Diamanti e Iliemark. Mialovic schiererà Hart tra i pali, Zappacosta, Rossettini, Castanne e Barreca in difesa. Mentre in mediana ecco Valdifiori, Acqua e Benassi. In avanti spazio fin da subito al trio Belotti, Iago Falch e Liaic che sembra in vantaggio su Boyer.